Tensione alla tendopoli di San Ferdinando durante la prima notte di zona rossa, dopo che 15 migranti sono risultati positivi al Covid. Una setantina di migranti, infatti su 300 ospitati nella struttura, il cui accesso è interdetto, ha risposto con una sassaiola all'ordine di non entrare e non uscire senza permessi al campo. Per una decina di minuti un lancio di pietre dall'interno del campo all'esterno, verso l'area solitamente presidiata dalle forze dell'ordine, ha fatto temere in peggio. Staccato anche l'impianto dell'energia elettrica. Per fortuna nessun è ferito e nessun danno ai mezzi della polizia intervenuti con l'autoblindo del reparto operativo, ovvero con l'equipaggiamento antisommossa. Da quel che però hanno riferito alcuni testimoni degli incidenti, vi è però un dato che preoccupa più degli altri. I migranti protagonisti degli incidenti solo in piccola parte sono rientrati nelle tende. Molti sono usciti dalla struttura aggirando la zona e dileguandosi nelle campagne circostanti. Dura il commento di Walter Mazzetti, segretario generale FSP Polizia di Stato, dopo la sassaiola. Non abbiamo più parole, dice, per commentare lo sfaccello assoluto che la totale incapacità politica in tema di gestione dell'immigrazione sta causando in questo momento di emergenza sanitaria. Non ci sono più parole adatte neppure per esprimere la solidarietà ai colleghi che puntualmente subiscono sulla propria pelle gli effetti nefasti di una finta accoglienza le cui problematiche vengono lasciate sulle loro spalle come meri problemi di ordine pubblico. A cittadini viene chiesto di continuare a fare sacrifici pesantissimi per colpa del virus, ai poliziotti di continuare a rischiare la pelle per tutelare la salute pubblica, ma in certi posti tutto va a rotoli e l'emergenza sanitaria svela una volta di più le lacune di un sistema politico che chiacchiera tanto e fa pochissimo, conclude Walter Mazzetti.